sono luca colle faccio parte del mondo del grube da quattro anni posso definirmi una figura sui generis nel mondo del franchising perché oltre a essere titolare punto vendita ricoprono anche la figura del store manager siamo partiti da udine con classico bargain e sei mesi fa ben raddoppiato con l'apertura in provincia a gorizia di un secondo ristorante mi chiamo gianni ugolini vivo a modena da alcuni anni gestisco con altre tre soci locali lovengrobe il primo aperta a bologna nel 2018 il secondo aperta a modena nel 2021 in piena pandemia dopo un difficile periodo di gestazione per la realizzazione del locale e il terzo sempre nel 2021 a ravenna sono fabio boscaino e per me il business è sempre stata una questione di famiglia i due soci con cui ho intrapreso anni fa l'avventura imprenditoriale sono infatti i miei cugini fabrizio e bruno il nostro cammino è partito dal mondo del retail e le cose tutto sommato ci stavano andando abbastanza bene tuttavia volevamo continuare a crescere e soprattutto battere nuove strade e così abbiamo deciso di affacciarci nel settore della ristorazione le opportunità nel mondo del food però erano tantissime infatti facevamo davvero fatica a orientarci poi tramite una catena di contatti comuni abbiamo conosciuto pietro e monica che ci hanno aperto il mondo di lovengrobe pagarmi gli studi inizi a lavorare in una alta catena e fast food doveva essere solo un lavoretto part time temporaneo invece è trasformato in occupazione stabile per oltre 12 anni un giorno però mi siamo andato allo specchio ho detto basta voglio creare un posto mio con lovengrobe è stato amore a prima vista appena visto il wagon va innamorato perso i loro prodotti mi hanno acquistato al primo assaggio e ho capito che se fosse stata possibilità di collaborare quella sarebbe stata la mia strada il progetto che ci hanno presentato ci ha colpito immediatamente lovengrobe è rappresentato da subito la svolta che cercavamo un'azienda strutturata un'azienda con un know how consolidato capace di trasmetterci tutta l'esperienza di cui avevamo grandissimo bisogno il mondo lovengrobe ci è piaciuto molto perché è un mondo affabile un mondo familiare non è costruito ma è semplicemente un mondo dove le persone locali dove le persone possono andare e passare del tempo piacevole sentirsi un po a casa nei locali di qualcun altro con cibo di grande qualità ma comunque economico e che ti permette di visitare il locale magari più volte la settimana ma il grande punto di forza è il rapporto di stauro tra verifici e licenziatari il love and group e c'è dialogo si propongono un'idea la valutano e mi rispondono mi fa sentire la loro fiducia ed è proprio quello che desidero al momento noi gestiamo quattro vagen all'interno di outlet village visivamente parlando il vagen è da 10 e lode i clienti poi non mancano mai ma abbiamo scoperto abbastanza presto che le potenzialità del nostro vagen erano ben più ampie ma renderci davvero orgogliosi però è la reazione delle persone che si avvicinano al vagen attirate dapprima dalla curiosità poi magari le vedi un po prevenute verso tutto ciò che street food ma al primo assaggio le vedi proprio illuminarsi ed è davvero un piacere lì perché trasformato un cliente curioso in un cliente abituale l'esperienza del primo locale è stata ho guardato i miei soci e gli ho detto ragazzi l'abbiamo fatta grossa sono locali molto adatti a contenere differenti tipi di visitatori c'è uno spazio dedicato alla famiglia con la zona bambini c'è uno spazio dedicato ai ragazzi più giovani con il monitor le partite molto spesso la musica quando possibile un locale che si presta a differenti tipi di ospiti e quindi sedersi per la prima volta vedere il locale così esplodere da nulla sarà una sensazione di come posso dire di soddisfazione ma anche di preoccupazione perché poi tutte queste cose sono da gestire gli affari vanno bene tanto che stiamo anche pensando di avere un ristorante love and group è classico il nostro viaggio sentiamo non essere ancora finito l'obiettivo è più in là love and group è il partner giusto ti seguo in tutti gli ambiti i rischi certo ci saranno sempre ma avere dietro un brand come love and group è fondamentale per chi si approccia al mercato del food se posso dare un consiglio ai futuri compagni love and group suggerisco di essere sempre pronti a collaborare senza aspettarsi a papà pronta dalla casa madre serve molto impegno perché siamo in realtà si sta affermando ma gli sforzi ripagheranno sapere che lo vengo intende aprire altri punti vendita mi rende orgoglioso perché nel mio piccolo sa del fatto la mia parte questo è la sfida che noi viviamo ogni giorno e qua devo dire che lo vengo bene molto attenta e vedere tante persone che porti nel locale tornare con i propri amici il sintomo evidente che le cose piacciono